Adesso davvero diamo un grande impulso alla valorizzazione della cultura olivettiana grazie proprio a questa prima mostra a cui ne seguiranno poi altre cinque sino al 2023. Ci diceva poco fa che nei corridoi incontrate le spille d'oro olivetti insomma chi ha lavorato tutta la vita all'Olivetti viene a vedere queste mostre e ritrova un po' di storia. Sì spesso le persone vengono perché hanno avuto rapporti o hanno lavorato per Olivetti e ci raccontano episodi del loro passato proprio in relazione magari alle opere esposte. Qualcuno per esempio ci ha raccontato che le opere di Ventrone erano nella Bouvette e lui lavorando tutti i giorni appunto in questi locali aveva la possibilità di ammirare queste nature morte splendide. Oppure un caso personale uno dei quadri che sono esposti era nell'ufficio del capo a cui mia mamma faceva da segretaria e le stesse mi raccontava appunto che per quasi 30 anni ha convissuto con quel quadro nell'ufficio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.